Filippo Carobbio, vita a morte e vita. Oggi è stata vita, non è stata vita per caso ma l'abbiamo dimostrato sul campo facendo una partita importante. Devo rendere atto ai ragazzi, fare complimenti a loro perché il merito è solamente loro, perché hanno interpretato la gara in maniera perfetta. Quando si dice che alla fine sono i giocatori che vanno in campo, oggi è veramente così, perché oggi in campo loro hanno fatto una grandissima prestazione. Gli avevo chiesto atteggiamento dal primo minuto fino al 96 e l'hanno fatto per tutti i 96 minuti. Veramente è una partita importante dal punto di vista dell'atteggiamento. Magari dal gioco, in queste ultime partite non siamo brillantissimi da quel punto di vista lì, ma questo conta poco, conta l'atteggiamento e con l'atteggiamento si vincono le partite. Oggi è stato così, complimenti ai ragazzi, veramente sono stati grandi. Non si può adesso abbassare la guardia? No, no, assolutamente, non dobbiamo più fare l'errore che abbiamo fatto dopo Fiorinzuola, di pensare di essere guariti. Non siamo guariti, siamo scarsi, rimaniamo scarsi e dovremo affrontare tutte le partite come abbiamo fatto oggi, pensando che gli altri siano più forti di noi e noi siamo più scarsi degli altri. Se noi entriamo in campo sempre in questo atteggiamento, allora poi per gli altri dimostrare sul campo che sono più forti e dura. Un grande spirito di squadra, lottato fino all'ultimo su ogni pallone, menzione particolare però per Pasotti che all'esordio da titolare ha dato sia quantità che qualità. Allora, assolutamente sì, oggi tutti, tutti, chi è entrato, chi ha giocato all'inizio, è lo stesso Careccia che ha fatto una grandissima partita, che è subentrato a freddo, una partita in corso, già l'aveva fatto domenica scorsa, era stato forse uno dei migliori anche domenica scorsa. Quindi tutti grandi e sì, come dici tu, Pasotti, io lo vedo in settimana all'allenarsi e ho detto ogni volta che fa allenamento, dico sempre, entro nel spogliatoio e dico ai miei staff che Pasotti è un giocatore veramente forte e oggi ha dimostrato, l'avete visto tutti. Questo fa piacere perché vuol dire che abbiamo visto giusto e sarà un giocatore che ci potrà dare sia qualità che quantità anche nelle prossime partite. È importante adesso che anche altri componenti della Rosa raggiungano un livello soddisfacente di condizione fisica a partire da Zecchinato? Sì, sì, Ale lo sa, deve lavorare, deve lavorare, deve lavorare più degli altri perché è indietro di condizione, per l'infortunio brutto che ha avuto, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, pian pianino stiamo cercando di rimetterlo a livello degli altri, sa che deve lavorare, deve fare di più, lo sa anche lui, però oggi siamo stati bravi tutti, veramente anche i ragazzi giovani, anche lo stesso Lirli che non menzioniamo mai però anche oggi ha fatto una grandissima partita, lo stesso Sola che è entrato, Andrea in porta, quindi sottolineiamo sempre le prestazioni dei giocatori vecchi, tra virgolette, ma anche i giovani ci stanno dando un grande contributo e sono veramente contento per loro e per tutti i ragazzi perché se lo meritano, perché durante la settimana lavoriamo sempre bene, riprendersi sempre da battoste, non è mai facile, l'abbiamo fatto, abbiamo messo classe alle spalle, oggi non era facile e l'abbiamo fatto con una prestazione importante. Prossima fermata e prossima finale, Pavia. Sì, Pavia, è avanti a noi in classifica, quindi vuol dire che siamo più scarsi di loro e questo deve distinguersi da qui fino alla fine dell'anno, ogni partita a pensarla così e pensare che poi gli altri però dovranno dimostrare sul campo di essere più forti di noi. Domenica è un'altra finale a Pavia, sappiamo benissimo che se facciamo una partita importante anche loro potrebbero venire succhiati nella zona che cade la classifica e quindi più ne entrano meglio è, però ecco, guardiamo di partita in partita. Il nostro obiettivo oggi è salvarci e deve essere fino alla fine, salvarci o tramite play-out o tramite salvezza diretta, non lo so. Oggi abbiamo guadagnato tre punti della penultima classifica, quindi siamo tolti dalla zona di processione diretta e questo è già un primo passo e per il resto poi vediamo più avanti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.